Sì, io oggi avevo una relazione sui casi complessi, casi difficili di protesi d'anca primaria, cioè di quei casi che escono un po' dalla routine, quindi come approcciarsi e come realizzare questi casi. La conclusione praticamente è stata, come in tutte le cose, che possono sembrare difficili, alla fine se noi facciamo un'accurata progettazione, un accurato planning praticamente, facciamo un vero e proprio progetto del nostro intervento, non dico diventano proprio facili, ma li possiamo affrontare con maggiore serenità e poter dare un buon risultato al paziente.